ciao oggi prepariamo dei crostoni con cicoria e patè di mandorle tostate davvero squisito prima cosa facciamo lessare leggermente 5 minuti le cicorie in acqua leggermente salata poi mettiamo a tostare le mandorle vanno bene anche 10 minuti in frigitrice ad aria abbiamo scolato le cicorie le facciamo saltare in padella con un po di aglio olio extravergine d'oliva e prepariamo il nostro patè di mandorle con acqua mandorle tostate un po di aceto di mele un pizzico di sale semplicemente trasferiamo in una ciotola e poi spalmiamo due fette di buon pane di qualità il mio è autoprodotto con farina di segale pasta madre buonissimo e quindi patè di mandorle poi le cicorie aggiungiamo un filo di olio del peperosa e la nostra ricetta è pronta io spero tanto che vi sia piaciuta se così vi chiedo la cortesia di mettere un like lasciare un commento e condividerla ciao un bacione alla prossima grazie a tutti